Eccolo qua, capo cenere! Ti difendo io, due 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 due. Ah, scusa, scusa. E io dopo e te dobbiamo fare i conti, eh, che non capisco perché ti sei vestita stasera da donna nuda, comunque. Ma che donna nuda? Sono vestita! Sta così bene da scardinatrice di freni inibitori. Dopo ti devo dire due cose in un occhio, eh, dopo... Senti, aiutatemi un attimino a fare queste cose qua. Allora, lotto verticale, nel parco e nei giardini, Ah, le panchine, le panchine. Drogate. Ma vabbè... L'ho fatto. Ventisette orizzontale. Sì. Un difensore della patria. Della patria... Maldini. Maldini. Il centro di Milano. Centro di Milano. Eh, Mila. Un casino. È vero, è un casino. Si indossa nelle grandi occasioni. E... Come si chiama? Il... Passamontagna. Ma le rapine col Passamontagna. Ah, quello, quello, quello. Ah, vedi questo, vedi questo, eh. La fine del pasto... La fine del pasto? Brutto. Io. Ma che... E' la mano, che... Ma come è rutto? Ma che schifo. Ma che schifo. Ma che schifo. Dai, dici la verità che anche tu, eh. A proposito, aspetta, un attimino, fammi fare una cosa, scusa, donna. Mettete di casa. Stavo meglio prima, eh. Eh? Non ti piaccio? No, voglio dire, le feste passano, i vestiti restano, complimenti. Vabbè, insomma, chi più spende, meno spende. È vero. Vabbè. Senti, ti faccio un vero o falso? Vabbè, è un vero o falso? La mia passione. La mia passione. Fatti vedere che ti piacciono. Mi piace tantissimo. Riti! Cos'è va bene, eh. Senti, stai attento, mago. Allora, il gatto delle nevi... E' arrivato lungo sul piazzale, sfasciando sette macchine parcheggiate. Eh? Una era la tua. Vero o falso? Falso. Perché la mia l'ho messa nel parcheggio proprio dietro l'albergo. Sì, ma poi te l'ho spostata io. Era la tua! Ti chiamo un taxi? Chiamo un taxi. Bisio! E' l'è!